Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo tour virtuale Casa Inmer. Oggi mi trovo ad Albinea, in centro, per presentarvi questa splendida opportunità ai piedi del Parco Fora. Ci troviamo vicino alle scuole elementari di Albinea e siamo in una palazzina che arriva proprio alla fine della via, silenziosa e molto tranquilla. Ora vi faccio vedere la particolarità di questo appartamento. Alle mie spalle abbiamo una bellissima loggia che potrete sfruttare nei vostri periodi più caldi, in estate, in primavera, quando volete. E la particolarità è che chiudendo la loggia si può espandere la superficie dell'appartamento. Ovviamente pre-autorizzazione in comune e concessione. Ora vi descrivo un pochino questo appartamento. Ci troviamo nel soggiorno, alle mie spalle abbiamo il cucinotto e la loggia. zona notte, camera matrimoniale grande, ripostiglio grande che si può utilizzare insomma come seconda cameretta eventualmente, bagno e un balcone nel ripostiglio. Cantina e garage al piano interrato, che però ha l'accesso esterno sul cortino. E' stato ristrutturato di recente l'appartamento nel 2016. Ci sono state montate questa pompa di calore e questa caldaia. Ci troviamo al piano rialzato di una palazzina di poche unità, con bassa spesa comunale. Intorno abbiamo tutta un'area verde comune molto molto carina. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo tutto virtuale Casa IN e vi do appuntamento il giorno dell'open house a brevissi. Grazie. 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 Grazie.